Conclusa nei giorni scorsi la terza esercitazione nazionale dei Vigili del Fuoco, promossa dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, con il coinvolgimento della Direzione Interregionale e tutti i comandi del Veneto e la partecipazione di personale della Protezione Civile della Croce Rossa. L'esercitazione è giunta la quarta settimana a turno su tutto il territorio italiano, in contemporanea anche con le regioni Friuli, Venezia Giulia e Calabria, per testare la capacità di risposta nazionale in caso di calamità con la mobilitazione delle colonne mobili regionali. L'esercitazione ha visto impiegati fino a 180 operatori al giorno su sette diversi scenari su tutto il territorio della regione, per un totale di oltre 650 operatori, tra cui molti specialisti del corpo. Presso tutti i comandi sono state attivate le sale crisi provinciali e quella della Direzione Interregionale di Padova. Sono stati testati per tutti gli scenari l'attuazione dell'Incident Command System, la prontezza di attivazione delle risorse, la verifica del flusso di comunicazione interno ed esterno, l'utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuali, le verifiche dei sistemi hardware e software in dotazione e dei dati. Allestiti diversi scenari catastrofici con la simulazione dei soccorsi attraverso tecniche nuove e con strumenti altamente innovativi.